In questo video tutorial vorrei parlarvi di questo lavoro che ho fatto in Scratch, sempre per la rivista Scuola Italiana Moderna, che si chiama Il ciclo dell'acqua. In questo lavoro in realtà la cosa che mi premeva era spiegare, o meglio vedere, un altro utilizzo dei blocchi messaggio. Blocchi messaggio che ho utilizzato anche nel lavoro del Do You Speak English. In quel caso avevo utilizzato questi blocchi per separare, per creare un flusso delle istruzioni che fosse più leggibile. In questo lavoro invece del ciclo dell'acqua vado ad utilizzare i messaggi proprio per creare una concatenazione di eventi. Infatti i messaggi rientrano nella categoria delle situazioni degli eventi di Scratch. Vediamo prima l'animazione e poi andiamo a vedere all'interno come ho strutturato il tutto e alcuni accorgimenti che ho utilizzato. Ve la mostro prima, poi ne parliamo un attimo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 passo cosa cosa ho fatto ho realizzato dei messaggi che strutturano un po il tutto che partono dal sereno nuvole pioggia e poi ancora sereno quello succede quando noi facciamo partire con la bandierina verde parte in realtà il primo sprite che è il sole e il sole inizia a salire e poi inizia a splendere facendo quel quell'effetto del del rosso che 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 va e viene dopodiché si passa quando c'è vi faccio vedere riduciamo un attimo così vediamo meglio il vapore il vapore riceve vedete il comando sali che gli viene dato vedete qui dal sole quando riceve il comando sali inizia a salire più o meno verso la metà del nostro stage parte da un effetto diciamo fantasma a zero cioè è a pieno costume poi pian pianino diventa sempre più più trasparente quando ho utilizzato dei secondi un po per temporizzare tutto dopo un po sostanzialmente vengono eliminati tutti i cloni e si passa alle nuvole le nuvole vanno a coprire la parte del sole e una volta che hanno coperto tutta la parte in alto del nostro del nostro ambiente arriva il comando pioggia che viene naturalmente utilizzato dallo sprite pioggia e iniziano a scendere le gocce che vengono clonate come venivano colonate anche anche le nuvole e così quando a un certo punto che qui temporizzando usando un po il numero delle ripetizioni i secondi sostanzialmente poi viene mandato il comando sereno e il comando sereno viene riutilizzato da dai vari sprite che inviano ripartono con con il ciclo con il ciclo iniziale vi faccio notare il oltre a sole nuvola pioggia averi che ci racconta un po cos'è il ciclo dell'acqua e il vapore o l'ambiente ho preferito in questo caso separare quegli ambienti che vedevate quindi la spiaggia montagne e alberi e il sottosuolo non sono degli sfondi perché se noi andiamo a vedere gli sfondi mi mostro gli sfondi gli sfondi è semplicemente uno stage uno sfondo completamente azzurro ho messo qui sotto una linea grigia che ci permette di far eliminare la pioggia e molto tale che quando la pioggia tocca questa linea grigia viene viene eliminato il clone nel caso invece dell'ambiente ho separato un po quello che potrebbe essere lo sfondo dagli altri oggetti ma ho tale da avere questi tre questi tre ambienti che vedete nel vi allargo l'immagine cosa succede abbiamo questa cosa vedete che rimane lo sfondo dietro questo perché perché nel passaggio tra il la spiaggia e il paesaggio ho messo un effetto luce di luminosità sul sullo stage sull'azzurro in modo tale da creare quell'effetto che si vede di dice lo che diventa cupo in modo tale che quando il vedete ok quindi quando facciamo partire il sole ho cliccato sulla bandierina si blocca bandierina il cielo è azzurro quando arriva il comando nuvole e si stanno formando le nuvole arriveranno le nuvole che andranno a coprire il sole e il cielo vedete che diventa buio quando viene ridato il comando sereno il cielo scusate diventa diventa azzurro e nel contempo riparte con il comando sali vedete ho giocato sostanzialmente per costruire tutto questo un po sulle varie temporizzazioni e soprattutto usando questi blocchi messaggio quindi quando ricevo invia tutti ho usato questi due blocchi proprio per creare una concatenazione di eventi quasi vorrei dire un domino infinito bandierina verde sali e così via sali nuvole pioggia sereno e di nuovo poi nuvole e così via in modo tale insomma da creare una consecuzione di di eventi per creare appunto questo ciclo dell'acqua sostanzialmente infinito perché se noi non stoppiamo l'animazione continua continua all'infinito